Salve a tutti ragazzi sono Piazza e benvenuti in questo nuovo video di Clash of Clans Siamo qui nel quinto episodio di Attacchi Improbabili E quest'oggi come mi hanno suggerito alcuni ragazzi faremo un attacco Valkyrie Guaritori E' una copiata assurda perchè non lo so, perchè non so come usarli Sto facendo il Re Barbaro al 7 e poi lo farò subito al 8 Poi vedete che sto facendo, vai peccal 2 che devo farci un video con i peccal 2 Stragone al 6, qualche cosina così ma sto facendo i Golem perchè me li avete chiesti tutti per un video E quindi devo fare i Golem Andremo a prendere un Municipio livello 7 a sto giro perchè non ho neanche il Re Barbaro Non ho Re Barbaro, ho solo delle Valkyrie, cioè non penso di far bene Qui nel Clans mi sono fatto dare 20 Arcieri perchè nessuno aveva Valkyrie da darmi Quindi ci vediamo con l'attacco una volta che abbiamo trovato, il villaggio adeguato Vi ricordo Municipio 7, non uso i Fulmini per spaccare le difese aeree perchè altrimenti è troppo semplice Andiamo alla ricerca Eccoci ragazzi, il villaggio non è male, il fail è sicuro Però ha una sola difesa aerea E' un Municipio all'8 Ergo può andare molto bene a molte 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 risorse E vediamo come si mette la situation Ah porca la puttana voi vi siete divisi Quindi faccio 3 e 3, che devo fa? Ah ma ho una sola, ho una sola cosa, come si dice lì Eh ma non ho un cazzo, non ho Re Barbaro, non ho un cazzo, porca puttana Ok Fail Bellissimo questo fail, quindi anche le uso la cura Porca vabbè qui le faccio morire Ah ma ci sono le Valkyrie, porca la puttana Ma pensavo fossero morte tutte, vaffanculo No ma davvero stai inseguendo una, tre guaritori che inseguono una Valkyrie Doi ma ripigliatevi ragazzi Come dicevano allo scorso video, donne tutte sul nero Non era voluta la battuta, giuro, però mi è uscita E niente, comunque due stelle, 50% Mi serve l'Elisir, forza, tirateglielo giù tutto Dai dai cavolo, che se riusciamo a fare una buona percentuale qui No, è partita la difesa aerea E un guaritore è andato Queste qui ormai sono abbandonate a loro stesse Ma dovete spaccare il muro No, sul nero, grandi Vedi, alle donne piace il nero Cioè c'è poco da fare Cioè chi dice di no non l'ha capito come funziona Visto, sono andato subito sul nero Subito Eh, mica sceme Sì ma mi spaccano tutti Tutti mi spaccano Mi uccidono tutti i guaritori È finita ragazzi Basta, fine dei giochi Sono morte tutte ormai Dovete dividervi E spaccare tutto quello che avete 75% Dai che non è male Dai che non è male Schivate Grandi Sto qui potrebbero shottarlo Spaccate sto mortaio che è fatta Vi prego Dai cavolo Che non sta uscendo un brutto No perché Ah va Prima sulle risorse Ah vanno dove Vanno un po' ovunque Ma son fenomenali eh Solo che c'è l'arciere davvero Vabbè come risorse son contento Comunque L'ho L'ho suotato Cioè Senza problemi È stato un attacco soddisfacente Anche se non dovessi fare 100% Non penso di farlo Perché comunque son morti tutte ormai Però Sono comunque abbastanza soddisfatto Io almeno Ecco Morte tutte Ah no Pensavo Quante valchiri mi sono rimaste Due Vai Forza Forza Madonna quanto danno Che fanno Beh comunque ragazzi È stato un attacco Sarebbe stato un 100% Se me la fossi giocata meglio È perché le valchiri io non so usarle È tutto lì il fatto Però 94% Abbiamo raso al suolo Un TH8 Interessante Che poi si va un po' più del 94% Perché ora questa caserma Dovrebbe andare giù 96 95 Si sono anche divise Peccato proprio Questione di secondi Mi servivano 15 secondi in più Però Sono soddisfatto L'attacco è andato Andato bene Secondo me Ci siamo portati Un 180.000 1.000 di nero 344.000 L'attacco è andato bene Non è pensavo molto Peggio Sono sincero Niente ragazzi Anche quest'oggi Un video corto Spero di riuscire a riportarvi I video un po' più lunghi Più avanti Me lo auguro Solo che I motivi li sapete Sono andato a vedere Il secondo episodio Di questa serie Dove No il terzo Dove lo spiego E non voglio dilungarmi troppo I motivi li ho spiegati E spero comunque che Più avanti Comincerò a riportare I video un po' più lunghi O magari portarvene Uno o due al giorno Dipende anche da Quanto riuscite ad essere attivi voi Anzi comunque La media è sui 200 mi piace Arriviamo a 200 anche qui Dovremmo farceli In descrizione trovate Pagine Facebook Instagram E tutto ciò che vi serve Se volete seguirmi anche lì Potete farlo Da Piazza è tutto Un saluto E ciao ciao ragazzi Non dimenticate di iscrivervi Se volete